è lo sprint che vale la maglia tricolore di campione d'Italia ecco Baronchelli sulla destra, Ceruti al centro, Torelli che lo attacca sempre Ceruti, Torelli sulla destra, ecco Gavazzi che scatta all'interno Gavazzi su Torelli, Baronchelli, Ceruti e Masciarelli c'è stato uno sbandamento proprio sul traguardo, ecco che arriva Norris uno sbandamento proprio sulla linea del traguardo ma Pierino Gavazzi ora forse potremo rivedere lo sprint Grazie 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 Grazie